Burloni, bentornati in questo nuovo episodio della se... della serie... eh no, eh no, la vanilla è finita. Eh, come... come l'ho chiamata allora la serie? Volete saperlo come l'ho chiamata? Io lo so che tu nello schermo e sei dicendo Dimmelo subito! Anche se effettivamente l'ho messo nel titolo, quindi non c'è molta sorpresa in questa cosa. Mmm... Potrei non mettere il titolo della serie nel titolo, così almeno adesso state dicendo Dai Marci, dillo, muoviti! Facciamo così, lasciate un mi piace, lasciate un mi piace adesso, se voi lasciate un mi piace vi dico come si chiama la serie E poi facciamo una cosa, iscrivetevi al canale se non siete iscritti Ho deciso, adesso facciamo che lo facciamo vestiti per bene, questo name reveal La serie si chiamerà Steamcraft È stato praticamente il nome più votato, il nome più chiesto da parte di tutti Molti mi hanno dato di chiamarlo Steampunkcraft Alcuni Steamland, altri Punkcraft e cose di questo genere Però Steamcraft funziona molto molto bene Vi faccio vedere il logo della serie che vi faccio andare in sovraimpressione L'ha scritto, costruito e diciamo fatto tutto il branding la mia ragazza Non l'ho fatto io chiaramente, io ho dato solo l'idea di come farlo E se notate il font della C è lo stesso del mio libro Steam City Allora per quanto mi riguarda la situazione libro è importante Io ci tengo tanto a quel libro nonostante sia uscito un anno fa So che molti di voi ancora non hanno avuto la possibilità di leggerlo E sappiate che quando abbiamo fatto il concorso per tornare in top 100 Siamo arrivati in top 155 Ok? Grazie a voi che avete deciso di supportare l'idea del mio libro Penso che rifarò un contest di questo tipo E vi dico solo che ci sarà un vincitore lo stesso Ho già contattato questa persona E riceverà un regalo Adesso vediamo se ha voglia di essere presente in un video Giusto per testimoniare che esiste veramente questo vincitore Ed oggi come primo episodio della Steamcraft Ho deciso di fare qualcosa di magico L'avete sicuramente letto dal titolo Facciamo un cubo di Rubik a casa Me l'ha inviato un burlone Il nostro amico Fausto 17 24 7 49 52 Chiocciola 12 4 3 Scusami ma il nome è lunghissimo Però volevo leggerlo tutto Il nostro amico Fausto mi ha detto Marci guarda c'è questo tiktok di questo tizio Che prova a fare una casa dentro un cubo di Rubik Perché come primo episodio della Steamcraft Non fai qualcosa che ineggi a quel qualcosa di magico Perché alla fine il cubo di Rubik raga Io so farlo per dire perché è una cosa matematica alla fine Ma ha qualcosa di magico È una magia È un cubo magico Non so come definirlo E quindi ho deciso che il punto di svolta della serie Debba essere qualcosa che ha una magia al suo interno Io mi ricordo quando lo facevo ai miei amici il cubo di Rubik Io non sono uno di quelli che lo fa in 20 secondi chiaramente Ci metto sempre un minutino a farlo Un minuto e mezzo comunque Però davo quel senso di magia ai miei amici Che era veramente incredibile Mi faceva volare come cosa Perché dicevo ma guarda questi qua che pensano che io sono un mago e tutto E quindi ho voluto ineggiare alla magia in questo modo qua Ho già preparato la concrete Mi sono fatto aiutare dai ragazzi server Abbiamo fatto la nottata a farci la concrete Se vedete che sono stack precisi È perché lo sapete come lavoro Faccio le cose precise Non mi va di averne 64 e 21 Li uso direttamente così e via Per chi non sapesse come si crafta la concrete Molto semplicemente bisogna usare Sabbia Gravel E mettete il colorante Ve ne darà 8 8 ragazzi Di sabbia Sarà tipo la concrete powder È tipo una concrete sabbia Per farla diventare come ce l'ho io Dovete fare un pillarone gigante all'interno dell'acqua Anzi se volete ve lo faccio vedere Vi faccio vedere la tecnica che utilizzo io Esattamente in questa maniera qua Ne mettete 4 così Fate i vostri 64 nel chilling Avete visto che se ne usano veramente pochissimi in realtà Poi io personalmente lo faccio sempre in questa zona qua Vi mettete qua Fate un pillarone che può essere anche di 2 in realtà raga Cioè io lo facevo di 2 in questo caso E vi mettete e fate una cosa di questo tipo Dovete salire di 32 volte chiaramente Perché siamo con 64 blocchi E niente poi voi dall'alto cosa fate? Iniziate a spaccare Per la gravità questi blocchi scenderanno Si trasformeranno in concrete Ritorno in acqua Ed eccoci qua ragazzi Se io faccio così guardate Questi qua io posso continuare a scavare all'infinito Perché tanto questi qua si vanno Vanno a cadere e trasformarsi direttamente Io vi consiglio sempre di mettere tipo dell'ossidiana dietro Così non rischiate che si baghi il blocco Eccetera eccetera Però comunque è un metodo veramente semplice Veloce Che io in video sinceramente non vi voglio neanche far vedere Perché è inutile dal mio punto di vista Però adesso ve lo faccio vedere giusto per mostrarvi Che è molto semplice fare questa cosa qua Ora arrivano tutti qua sotto 51 ne abbiamo persi qualcuno in giro 3 pezzi Dove sono gli altri? Dove sono gli altri? Che erano 64 Ogni volta sempre la stessa storia comunque 64 Perfetto avete visto abbiamo 64 di quegli arancioni Che non ci serviranno oggi però Ora dove facciamo il cubo di Rubik? Lo facciamo dietro casa Nel senso In primis ho bisogno di andare a prendere della deep slate Dovremmo averne abbastanza deep slate Qua Oh la quanta ne abbiamo In realtà mi servono questi qua Deep slate tiles Ne prendo abbastanza in realtà Perché ci possono servire C'evo che prima ci prendiamo un po' di cibo Perché siamo veramente a secco Ok Ne prendo altri 64 L'altro giorno un commento Marci ma perché hai sempre 64 di cibo? Raga perché vado a prenderli nel pollame banalmente Allora Nel pollaio Perché ho detto pollame? Che brutto pollame Comunque voglio farlo qua dietro raga Non la voglio fare piccolissima Questa struttura del cubo di Rubik in realtà Non voglio che sia piccola Voglio che questa zona qua Sia adibita un po' a queste cose Un po' strane e particolari Ora Mi metto a terraformare un po' tutto Perché secondo me qua bisogna terraformare veramente tutto Cioè veramente tutto Beh oserei dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro Anzi un ottimissimo lavoro Vado a togliere tutte queste cose qua Dopo andiamo a provare di nuovo a fare l'axolot La raga lo so Me l'avete detto tutti che È proprio una questione di fortuna raga Io sono un po' sfortunato sotto questo punto di vista Ma ora non è momento di parlare di axolot Ma è momento di prendersi tutta questa terra Perché sinceramente io di perderla Non ne ho voglia Perché la terra serve sempre È un buon oggetto di minecraft Io trovo che sia un ottimo oggetto di minecraft Quindi non voglio sinceramente buttarlo Ora chiudiamo tutta questa zona E iniziamo a mettere le basi del cubo Non prima però di essere andati a dormire Allora direi che possiamo iniziare In questo esatto momento Allora come facciamo questa cosa Innanzitutto dobbiamo prendere Del deep slate brick wall Che è la cosa più importante del mondo In realtà non è il brick abbiamo sbagliato Ma è in realtà il tile Quindi mi serve fare una crafting table Perché ho preso questi qua Se tanto non mi servono Marci Come mai non ti sei accorto Che quelli che ti servono sono i tile E non questi qua Ma vabbè fa niente La facciamo tutti questi qua Noi abbiamo 60 non ci basteranno mai chiaramente Ma ora vi faccio vedere Facciamo la prima facciata Che deve essere fatta con il rosso Per dire Allora come ci mettiamo a farlo Io direi che ci possiamo mettere intanto Verso questa parte qua Così poi ci possiamo andare verso Possiamo andare verso il dietro Allora facciamo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 All'ottavo si tira su Perché ragazzi faremo 7 per 7 dentro Ovviamente il rosso diventerà anche vetro Però ora per comodità faremo tutto concrete 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Giustamente Ed ora dobbiamo fare tutto il quadrato Con tutti i colori che abbiamo scelto Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E all'ottavo si tira su E controlliamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Perfetto Poi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E all'ottavo si tira su Stessa identica cosa da questa parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E all'ottavo si tira su E qua bisogna cambiare colore In questo caso per dire Mettiamo il blu Ok? Perché il blu ci piace E facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 E controlliamo Se tutto quello che stiamo facendo Sta venendo nella maniera corretta Ora mi porto un pochettino avanti Il lavoro direi che sta procedendo Piuttosto bene Mi sto anche super divertendo Nel fare questa cosa Posso dirla Cioè veramente Può sembrare strano Ma mi sto veramente divertendo Un sacco raga E non è da me Perché tipo queste costruzioni In genere io vado sempre Sul medievale Fantasy Ma mi sto divertendo Tipo troppo Perché sto pensando Già agli interni E come potremmo Arredare la casa Eccetera eccetera Poi nello scorso episodio Vi ho chiesto una cosa Ma le live presso Vi piacerebbero? Che è una cosa che vi piacerebbe? E non in tanti mi hanno risposto Quindi prendetevi un attimo Del tempo Per rispondere anche a questa domanda Ok? Qua abbiamo già finito Anche il terzo lato No il secondo lato Dobbiamo andare a fare Il terzo lato E lo voglio fare un attimo Insieme a voi Così vi faccio della tecnica Allora io salgo di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 Mi butto giù e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Ok ne manca 1 giustamente Ma dobbiamo fare di 3 in 3 Quindi 1, 2, 3 E andiamo avanti ragazzi Deve essere fatto tutto In questa maniera qua Qui fate così Lo saltate Quello Facciamo prima raga Saltarlo Perché ogni volta Prima non mi fermavo Ma ci perdevo veramente Tantissimo tempo Ok Ne ho un altro stack Perfetto Dovrebbero essere giusti giusti Più meno di stack Dovrebbero avanzarci circa Un 25, 26 Più quelli che perdiamo in giro 1, 2, 3 Ok Così dopo facciamo Solo l'ultimo giovedì Che alla fine È molto semplice da fare Non ci vuole granché Avevo pensato anche A fare una bellissima cosa Ovvero fare storto Il lato centrale Come se lo stessimo girando Però non lo so Se mi piace così Devo decidere un attimo Infatti il tiktok Che mi hanno inviato Era girato Nel senso che girava Però boh Non so Non è così difficile da fare in realtà Raga È tutta una questione Di farlo in diagonale Ci posso anche provare Ho finito il rosso Mannaggia Andiamo a prenderlo Effettivamente è la testa di Gabby Ci ho pensato adesso A questa cosa Gabby se vuoi un giorno Vieni nella vanilla Te la faccio decorare Evviva Beh direi che il lavoro È venuto piuttosto bene Sono molto soddisfatto Ora dobbiamo passare Al pavimento Perché il pavimento Deve essere fatto Chiaramente con un altro blocco O lo facciamo sempre A mo' di Di cubo di rubik Potremmo farlo Anche a cubo di rubik Qua sotto Usare il verde Perché mi sa che mancano Il verde e l'arancio Proprio come colori Potremmo farlo completo Oppure all'interno Lo trattiamo come una casa Come casa Il pavimento qua sotto Lo facciamo Di un blocco normale Potrebbe avere anche senso Così sinceramente Non ne ho idea Ah in realtà no Non devo neanche Terraformare Perché deve essere fatto Al pari di questi qua Quindi Potremmo utilizzare Un po' di stone brick Che io ho a casa Tantissimo Quindi andiamo a prenderlo Guardiamolo da fuori Intanto Mamma mia Cosa è diventato Io sono emozionato Di questa build Non so perché Perché può essere veramente Quella cosa Che non c'entra niente Con lo steampunk Cioè è evoluta Questa cosa Che non c'entra niente Con lo steampunk Ma che comunque segna Un po' questo cambiamento Che si andrà a creare Nella serie Allora stone brick Ne abbiamo parecchio Ma non ci basterà mai Quindi Vado a prendere Il coblet deep slate Ne prendo tantissimo E lo facciamo diventare Deep set tiles E facciamo il deep set tile sotto Che secondo me Ha totalmente senso Allora lo stone cutter Aspetta che devo Metterlo nell'inventario Oh Ma quanto sei Beh immaginatevi Quelle finestre di vetro Sarà veramente 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 figo Allora Mettiamoci qui lo stone cutter Facciamo diventare Tutta sta roba qua Direi Deep slate tiles Anche qua Deep slate tiles Tutto deep slate tiles Sì Tutto deep slate tiles Sono dei miei blocchi preferiti Però Facciamoci furbi Visto che dobbiamo fare Una marea di piani Facciamoci le slab Magari Che dite no Eh insomma Dobbiamo usare le slab Sì secondo me qua eh Perché almeno Li dividiamo praticamente in due Ne abbiamo veramente tantissimi Molto bene Allora facciamo tutte Tutto il contorno Ora è tutto da fare così raga Ci metteremo sei anni Evviva Sei anni a partire da Start recording Devo dirvi che Serviranno più blocchi Del previsto Amici Perché Sì Non ho neanche finito Tutto con tutti Tutti gli stack Che avevamo di slab E vi devo anche dire Che non è stato Così semplice farlo Perché io l'ho fatto Molto veloce E ho sbagliato Molto molto spesso Adesso andiamo a sistemare Tutte le cose Che abbiamo sbagliato Qui adesso andiamo Sicuramente a cambiarlo dopo Qua ci sono le torce Più che altro Perché le torce Servono Perché secondo me Sporano una marea Di mob adesso Devo subito Mettere le torce Mettiamone un po' In giro Neanche troppe raga Non è che ne servono Così tante Però già la casa All'interno raga Ma quanto diamine è bella Ora farei giusto Un ingresso da questa parte Dobbiamo capire Poi come gestirlo Perché sicuramente Qui Tocca mettere un blocco Intero E qua dobbiamo fare Un ingresso In qualche modo Dobbiamo gestirlo Diversamente secondo me Comunque decidiamo Ora dobbiamo fare Anche Tutto questa roba qui E tutta questa roba qui Sempre di slab Lo farei Magari farei Tutto il contorno Di scale Così almeno Da avere un po' Uno stacco Che secondo me È un po' più carino Frediamo un pochettino Con le scale Come viene E fate tutto il contorno Perché almeno Poi vedete che Non c'è proprio Questo stacco Se vado a mettere La slab qua sopra Guardate quanto è più bello Guardate quanto è più bello Vedete che è più bello Dentro Bene Lo faccio Faccio questo E il piano superiore Ci metterò sei anni Ci metterò sei anni Proprio Devo anche andare A prendere la dip Allora Sono passate circa Tre ore e quaranta Più o meno Quasi quattro Dall'ultima clip Ovviamente non ho registrato Quattro ore E avrò registrato per un'ora e mezza E ho fatto praticamente tutto Dov'è il mio piccone? No non è vero raga Non è vero Io ho il mio vizio Schifoso Di fare culo Avrò buttato da qualche Ho buttato il piccone raga Mentre ero in caverna A prendere la dip slate Ma ho buttato il piccone Mi sa Ma sai che ho buttato il piccone? Non è vero raga Non è vero Non è vero Devo andare a farmi un piccone Devo farmi un piccone in ferro raga Io direi Progetto Comunque abbastanza concluso Nel senso che Ovviamente all'interno Dobbiamo arredare Ma è una di quelle cose Che mi voglio tenere Per la live Nel senso Che adesso comunque Voglio fare qualcosa Non è che non voglio fare niente Però non lo faccio sicuramente Nel video di oggi Però mi piace tanto raga Mi piace tanto Pensare che possiamo Metterci una parete gialla Qui due pareti rosse Sempre di vetro in parlo Qui una bianca Proviamo raga Perché tanto Il vetro colorato Ho proprio giallo Bianco E non ho il blu Ho rosso Giallo No Rosso giallo bianco Ce le ho Sì Però forse non ne ho 35 No 49 a A tile Servono 49 a quadratino Non penso di verne così tanto Non lo so Andiamo a vedere raga Ho un po' questo dubbio Che mi sta perplimendo Mi perplime Questa cosa Ok Andiamo qua sotto E vediamo un po' come si è messi a vetro Non ne abbiamo più Proprio zero L'ho usato tutto il vetro Per cosa l'ho usato il vetro? Non mi ricordo L'avevamo preso Per qualcosa Per queste cose qua Per i dragon breath Quindi facciamo così Mettiamo a cuocere Tutta questa sabbia Ok Mettiamo a cuocere sicuramente Tutta la sabbia E poi ci pensiamo Nel prossimo episodio Raga Allora facciamo così Qui ci abbiamo già tutto Ci abbiamo Ullala Ora Torniamo su dal nostro Axoth Per concludere l'episodio Sperando che Posso Porca miseria Andare A farlo Bridare E farlo diventare blu Raga Porca miseria Allora Uno qui E uno Devo stare attento Qua Ok ce l'ho fatta al pelo raga Ti prego dimmi che diventa blu Ti prego dimmi Sì 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 È diventato blu raga È diventato blu Ce l'abbiamo Possiamo fare la farm infinita Di Axolot blu Sì Non ci credo E daje raga Daje Con ciò Vi saluto e ci vediamo Venerdì con un nuovo episodio Della Steamcraft Dove Probabilmente Inizieremo Il castello fantasy Vas-y